Sister Act Sor Cristina dalla TV al palcoscenico in Sister Act al Teatro Brancaccio di Roma alle telecamere di retroscena questa notte la suora cantante parlerà di fede e musica per terza pagina una breve anticipazione Senti ma prima di entrare in scena come ti prepari? Intanto prima di uscire di casa sempre passo da Gesù e faccio una preghiera in più poi chiedo, supplico tutte le mie consorelle di sostenermi con la preghiera e poi sì anche dietro le quinte non posso imporla a tutti la preghiera ma comunque mi crea un angolino per me un'invocazione dello Spirito Santo, magari qualcosa così allora mi rilassa Senti devo far vedere una cosa adesso, velocemente L'interprete che stiamo per ascoltare Buvole svaniscono dal cielo, nel mio cuore Ti ritrovavi a TV2000 in occasione del Good News Festival? Sì, la mia primissima canzone che ho scritto Senza la tua voce, senza il tuo... Nel 2013 qui da noi a TV2000, al Good News Festival la tua spontaneità, la tua autenticità emergeva insomma da tutti i pori Quando hai vissuto l'esperienza di The Voice invece ci sono stati tentativi di crearti degli artifici, di costruirti un personaggio? No, in realtà mi hanno sempre lasciata libera No, in realtà mi hanno sempre lasciato un personaggio?